di Veloci per ringraziare il Garden Club per questa collaborazione straordinaria, per aver dato l'impulso al restauro di questa aiuola denominata Roccaglia. Si inserisce all'interno di una collaborazione che è stata portata avanti negli anni, noi dal 2007 ad oggi abbiamo fatto diversi interventi nei giardini storici, anche proprio di livello simbolico, il datario che era 20 anni circa che attendeva di essere restaurato è stato l'inizio di queste operazioni in sinergia con la fondazione, la statua equestre di Garibaldi, il palco della musica, il... Sì sì ma arrivavo, prima parlavo della collaborazione ad esempio con Lions Host della Spezia per le statue nel boschetto, quindi per sottolineare come la sinergia tra enti, istituzioni e associazioni sia stata una svolta e qui simbolicamente si è manifestata attraverso questi recuperi di questo patrimonio straordinario che sono i giardini, patrimonio straordinario da un punto di vista paesaggistico, architettonico, botanico, naturalistico e abbiamo cercato di migliorarli anche con una nuova illuminazione che è stata fatta in questi anni e con un'irrigazione automatica che permette una manutenzione quindi più efficace. Quindi questi interventi diretti o indiretti attraverso le associazioni, istituzioni hanno significato un miglioramento notevole riportando a un'immagine un po' più antica, quella che raduna poi tanti ricordi e quindi nel nostro immaginario sono dei simboli straordinari. Il Garden Club quindi lo ringrazio ufficialmente per questa straordinaria collaborazione che ha permesso di dare di nuovamente lustro diciamo a questa aiuola che è veramente interessante da tanti punti di vista. Grazie davvero.